Si giocherà regolarmente allo stadio Pastena di Battipaglia la partita in programma domenica fra Battipagliese e Sant'Omaso. La decisione è il risultato della riunione tenutasi ieri in comune tra la società bianconera e l'ASD Battipaglia Calcio, società che gestisce la struttura in viale Barassi. Le parti si incontreranno in settimana per discutere anche della questione relativa agli allenamenti settimanali, con la speranza di trovare una soluzione condivisa e che soddisfi ampiamente le parti in causa.